Io sono un emittente, tu sei un ricevente, io sto comunicando con te. Ricevi? Ricevi bene? Se devo sapere di più sulla comunicazione, dal 13 al 18 maggio ti aspettiamo nella nostra palestra. La settimana della cultura scientifica, scientifica, scientifica. La settimana della cultura scientifica, terzo circa, da Lorenzo Milano. Vieni pure tu, vieni pure tu. E dai, vieni. Comunicare, comunicare, comunicare. Che fai ancora di seduto in poltrona? Non vorrai mica dormire. C'è la settimana della cultura scientifica. Noi ti stiamo osservando! Mi raccomando, dateci il buon esempio.